O è bianco o è nero. Per certe persone non esiste il grigio, non esiste una via di mezzo nelle situazioni, nei discorsi. Io quando parlo di scienza non parlo della scienza in generale, parlo di quella scienza che fornisce apparentemente soluzioni per dei problemi, ma ne crea degli altri. Qualcuno mi ha risposto, vedi Speck, anche il coltello serve per ammazzare le persone e per tagliare il pane e anche quello fa parte della scienza. Beh, a questo punto anche un sasso fa parte della scienza, perché prima magari degli uomini primitivi con il sasso ci ammazzavano degli animali per cibarsene, ok? Quindi anche quello è scienza, ma male male che va sto sasso, uno se lo dava su un dito, però dipende dalla stupidità, dipendeva dalla stupidità della persona che usava questo sasso. Il discorso della scienza di cui io parlo sempre, ripeto, è quella scienza che cerca di risolvere un problema, però ne crea un altro. Tra il coltello che taglia il pane o che ammazza le persone in base a come lo usi, all'intelligenza della persona che lo usa, un'automobile a motore endotermico, in qualsiasi modo essa viene usata, inquina sempre, brucia sempre, brucia sempre combustibili fossili, c'è un inquinamento, c'è una problematica, a prescindere dal modo in cui viene usata. Ecco, quel tipo di scienza che risolve dei problemi ma ne crea altri, è l'oggetto delle mie critiche, come per esempio le macchine elettriche, io non ce l'ho con le macchine elettriche, io ce l'ho con quelle macchine elettriche che magari hanno delle batterie a litio, anziché di usare delle batterie a grafene che sono a impatto ambientale zero tecnicamente, delle batterie a grafene che non inquinano, invece usano le batterie a litio che devono essere riciclate. Noi sappiamo benissimo che anche l'immondizia viene riciclata, la chiamerei la monnezza, viene riciclata, ma ci abbiamo messo migliaia di anni per capire che questa monnezza doveva essere riciclata, nel frattempo abbiamo sporcato tutto l'ambiente in cui viviamo, abbiamo fatto discariche, abbiamo fatto, cioè io vi credo, io non ho nulla contro la scienza, la tecnologia, non ho nulla neanche contro il telefono, contro il cellulare, contro il computer, assolutamente, calcolate che io sono un programmatore di computer, sono un programmatore, nasco come programmatore, ho costruito una stampante 3D come potete vedere, questa è una stampante 3D che ho costruito, quindi non sono uno sprovveduto e né tantomeno sono uno che la scienza non la usa, la tecnologia non la usa, anzi sono una persona che si avvale della tecnologia perché ne sono parte integrante. Il problema più grande che io muovo è il fatto che alcune tecnologie risolvono dei problemi creandone degli altri, cioè questo è il discorso, ovviamente con il mio modo di parlare, di fare video, le persone che non mi conoscono travisano in continuazione quello che io dico. Con questo video vorrei spiegare appunto il mio modus operandi, il mio modus operandi su alcuni discorsi, il discorso, che ne so, delle medicine, le medicine e la chirurgia, soprattutto la chirurgia, ha fatto passi da gigante, qualcuno mi ha risposto, ma io sono malato, ho la glicemia alta e grazie a questa pasticca che io riesco a sopravvivere, però non si è fatto il problema di dire, ma se io sono diventato così è perché forse mi sono alimentato male, ho mangiato male, ho mangiato monnezza e quindi mi sono ammalato, il mio pancreas non funziona più, non riesco più a equilibrare quello che sono gli zuccheri nel sangue, per cui ho bisogno di una pasticca, ma questa pasticca è vero che risolve il problema, ma è un problema creato da una scienza, la scienza dell'alimentazione dei dolciumi, che è una scienza che comunque ha fatto più danni che cose buone e questo è il discorso. Per esempio, le centrali nucleari producono energia, producono energia che noi utilizziamo, che noi adesso vedete in questa casa ci sono accese delle luci, potrebbe benissimo essere in qualche modo alimentata con l'energia nucleare, con una centrale nucleare, ma il problema sono le scorie, quindi si tende a risolvere un problema, ma automaticamente se ne crea un'altra di problema, un'altra problematica. Questo è tecnologia che io, in qualche modo, non condivido. La tecnologia che non condivido è quella che apparentemente risolve un problema, ma ne crea un altro, magari anche più grave, anche più grave perché l'ambiente inquinato con delle scorie nucleari, magari ti fa vedere la sera perché accendi la luce, però ti fa campare di meno. Per quanto riguarda anche la chirurgia, spezzo una lancia a favore della chirurgia perché comunque ha fatto passi da gigante. Parliamoci chiaro, quando una persona si fa male, le tecniche, i raggi X, diciamo che i raggi X, anche se fanno male, è un male molto ridotto, male molto ridotto perché comunque ti servono per vedere come sta l'osso e per curarlo meglio, per aggiustarlo meglio, ma certe tecnologie sono deleterie e io ce l'ho con queste tecnologie, sia ben chiaro, voglio parlare per tutti coloro che non hanno capito e mi hanno travisato, hanno travisato i miei discorsi, non hanno capito nulla di quello che ho detto, forse perché magari mi sono spiegato male, però è chiaro, per esempio qualcuno potrebbe dire, eh ma sa la carne, spec tu magari ce l'hai con la carne, con l'alimentazione non vegana ma carnivora, allora posso dirvi una cosa, io credo che l'uomo sia un nivoro, cioè possa mangiare in qualche modo un po' tutto, perché ha un apparato digerente che non è né lunghissimo né cortissimo, ma è una via di mezzo, quindi l'uomo dovrebbe essere un nivoro, però quello che vi dico io è che per far mangiare a un uomo una bistecca che è il frutto delle nostre, in qualche modo dei nostri allevamenti intensivi, occorre tantissima acqua, occorrono tantissime risorse, quando nel mondo vegetale abbiamo tutti, tutte le proteine, tutte le vitamine, tutto quello che può servirci per campare, il mondo vegetale cresce più facilmente, con meno sprechi di energie, ecco che cosa dico, la tecnologia io la amo, la scienza intesa come scienza positiva per la vita umana, io la amo, ma una scienza che non serva a niente, cioè perché magari ti dà una cosa con una mano e ti toglie dieci cose con l'altra, io non la condivido, sia ben chiaro il mio punto di vista, non condivido questo tipo di scienza, allora quando venite sul canale a dire eh ma tu spec c'hai il telefono, stai parlando con la tecnologia, io non mi rivolgo a quel tipo di tecnologia, io mi rivolgo alla tecnologia che ha inventato i motori endotermici, che oggi come oggi si potrebbero inventare delle macchine di energia solare, con motore elettrico, con batterie accumulatori in grafene, come i condensatori in grafene, che comunque hanno un impatto zero sull'ambiente, sono pulite e comunque hanno delle performance di gran lunga superiori ai motori endotermici, allora la cosa posta in quest'altra maniera mi sembra ben diversa, cioè andare su Marte, andare su Plutone, cioè non serve quando sulla Terra la gente muore di fame, questo dico io, questa scienza inutile, è un mio parere eh, questa scienza inutile che ci manda, diciamolo tra parentesi eh, diciamolo tra parentesi, ci manda su Marte, io non ci credo, però ci manda su Marte, sulla Luna, sfidando le fasce di Van Allen, che nel settanta siamo riusciti a superare, oggi invece non abbiamo la tecnologia per superare, questa scienza per me è deleteria, perché è uno spreco inutile di soldi, uno spreco inutile di risorse, che si potrebbero incanalare verso il, come vi devo dire, il benessere dell'essere umano, per me la scienza vera è quella che apporta un benessere per l'essere umano, senza pagare lo scotto, lo scotto di questo benessere, ok? Ci possono stare robot che lavorano al posto nostro, l'essenziale è che non dobbiamo pagare uno scotto di questi robot, che ne so, che magari vanno a carbon fossile, che ci inquinano l'aria, che ci danno delle problematiche, e quindi non è più l'esempio del coltello, ah spec, tu c'hai il coltello, ci puoi tagliare il pane, ci puoi ammazzare le persone, ma quello dipende da me, non dipende dalla scienza, dalla tecnologia, anche il sasso, vi ripeto, anche la ruota è tecnologia che noi abbiamo utilizzato, per tanti anni stiamo utilizzando, però è una tecnologia diversa, il telefono ci serve per comunicare, va benissimo, va benissimo se viene utilizzato nel modo migliore, quando ci spariamo i selfie su Facebook, ovviamente è un modo frivolo di utilizzare la tecnologia, però se non tange, non fa male a nessuno, ci sta, ci sta, va bene, il problema è quando la tecnologia fa male a qualcuno, per esempio io ho parlato della ricerca, della cura contro il cancro, quando il cancro sappiamo benissimo da dove deriva, una vita più sana, un corpo più sano, è chiaro che il cancro ha un'incidenza molto inferiore, per cui è inutile che ci inventiamo i draghi per curare il cancro, chemioterapie, medicine, pasticche colorate, e poi la pasticca colorata cerca, cerca di curare una cosa e poi schiatti con un'altra. La glicemia alta o il colesterolo proviene da quello che mangiamo, è inutile continuare a farci mangiare la monnezza e poi cercare di fare la ricerca, noi ricerchiamo la pillola del benessere, è come mangiamo che fa schifo, e questo vi deve essere ben chiaro, io sono pro la ricerca, pro la scienza, pro tutto, purché quello che si mette in commercio, per fare soldi e mi sta bene anche questo, quello che si mette in commercio non sia deleterio da una parte e apparentemente positivo da un'altra, apparentemente positivo. Allora cerchiamo di essere coi piedi per terra, non è più bianco o nero, cerchiamo di ragionare, la scienza, la tecnologia non è né bianca né nera, esiste tecnologia bianca e tecnologia nera. Allora cerchiamo di capire che la tecnologia quando viene inventata dagli inventori, non dagli scienziati, dagli inventori che si alzano la mattina per il benessere loro personale e poi trasmettono a tutti, è chiaro che deve essere una tecnologia che lì per lì ti dà il benessere, ma poi non ti deve chiedere qualcos'altro in cambio, qualcosa che magari ci può danneggiare. questo è la base di quello che dico, questa è la base di quello che dico, anche quando io mi schiero contro i viaggi spaziali, la ISS, è perché non vedo la ragione, sono cose sì che fanno bene perché ci fanno conoscere lo spazio, quello che volete, c'è chi ci crede, chi no, non ha importanza, quello che volete, però calcolate che qua c'è gente che muore di fame, allora prima di fare quel tipo di operazioni secondo me sarebbe meglio, non è populismo, che poi populismo per me è una parola importante e positiva, è soltanto coerenza, bisogna essere coerenti, d'accordo? questo è il discorso, quando parliamo di imprenditori, parliamo di imprenditori che comunque se prendono i soldi da una parte e per averli loro, li hanno presi da quella parte, qualcuno, se tu hai guadagnato tanti soldi a qualcuno, li hai presi, ecco un po' il discorso globale di quello che è il mio canale, io faccio questi discorsi in modo anche comico, cerco di sdrammatizzare, sono un po' estremista nella descrizione, la scienza, la scienza, cioè sembra che vado a distruggere tutto quello che è la scienza, ma non è così, non è così, questo deve essere fondamentale per voi, fondamentale per voi che mi seguite, perché dovete capire che c'è un fondo di bene in tutto, ma se poi il male che provoca quel fondo supera il bene, questa non è scienza, che se è munnezza, you understand? Saluti e baci, Spectro Maledicto!